Martedì 25 luglio, ben ritrovati con il nostro quotidiano appuntamento con la nostra edicola. Partiamo come sempre con i titoli nazionali. Iniziamo dalla Repubblica, la prima pagina del quotidiano. In primo piano ci riporta le notizie di politica interna. Si parla della legge delega, premio agli evasori e il titolo di apertura della Repubblica. Fratelli d'Italia attacca l'Agenzia delle Entrate e chiede al Governo di legarle il potere di appello quando perde il contenzioso in primo grado. Ma il ragioniere generale dello Stato boccia la riforma, misure agevolative e indeterminate che producono una perdita di gettito. E poi c'è il sì del 70% degli italiani al salario minimo, mentre le opposizioni si oppongono al rinvio. E poi ancora il caso Santanchè. Ora i PM di Milano indagano anche per una truffa allo Stato. Dunque ancora la Ministra del Turismo al centro della cronaca di questi giorni. Il maltempo. Se il sud è ancora nella morsa di Caronte, delle temperature alte in Lombardia invece si registrano tempeste di grandine e vento. Un morto a Lissone mentre fiamme in Sicilia. A sinistra vediamo la stazione ferroviaria di Monza danneggiata da un ubifraggio, mentre qui a destra le fiamme che stanno avvolgendo il territorio di Palermo. Grandine fuoco. L'Italia spezzata in due dal clima impazzito. Le notizie di spalla invece andiamo all'estero. Le elezioni in Spagna. Un Parlamento senza maggioranza. Feio e Sanchez. Ora cercano alleati. Andiamo adesso sulla prima pagina del Corriere della Sera. Ecco qui in primo piano invece ritroviamo proprio la politica estera, in particolare le votazioni in Spagna. Di duello sul governo, il Premier e il piano per trattare con gli indipendentisti il ruolo di Pic de Montt, ma la Corte Suprema diceva arrestato. Ancora sia Sanchez sia Feio cercano una maggioranza. Freno all'asse PP destre in Europa. E poi ritroviamo anche sul Corriere della Sera una intervista a Patrick Zaki. Ricordiamo appena liberato, ha ricevuto la grazia ed è tornato in Italia. I bambini italiani mi scrivevano in prigione, dice lo studente, al Corriere della Sera. Ecco, la fotonotizia ancora ci riporta il maltempo. Vedete Milano, tetti scoperchiati, una vittima in Brianza, una donna uccisa da un albero. Pioggia e trasporti in tilt. Si parla anche della morte del giornalista Andrea Purgatori. In prima pagina di Repubblica è stata aperta un'inchiesta. Oggi l'attacca, mentre il PM nel frattempo ha convocato 12 testimoni. Andiamo adesso sulla gazzetta del Mezzogiorno. Le notizie locali, quindi. Vediamo il titolo di apertura. Caldo e schianti, estate e rovente, strade killer, c'è rabbia per i quattro morti di Cerignola, quattro morti di cui due bambine di 8 e 10 anni. Oggi si registreranno picchi di 45 gradi, mentre da domani si tornerà a respirare. In Grecia nel frattempo continua l'emergenza incendi. Dopo Rodi scatta l'allarme anche a Corfu, sono stati evacuati dei turisti, mentre si registrano fiamme anche in Salento. La cronaca. Traffico di cocaina, patto tra i clan. C'è stata un'operazione, una vasta operazione antimafia nel Foggiano che ha portato a 82 arresti. E poi, a proposito di questa operazione, le parole del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo, intervenuto proprio a Bari per spiegare gli esiti di questa operazione. E alle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno ha detto che le mafie ormai sono strutturali. Passiamo adesso alle pagine locali della Gazzetta. Partiamo dalla Gazzetta Barese, dunque dal capoluogo di Regione Pugliese. Vediamo. C'è il lavoro, il caldo impone di rivedere i turni in molti settori. Parla la CGL che dice sul lavoro proprio. Serve una riflessione. La fotonotizia è dedicata al sit-in dei lavoratori di McDonald's che si sono fermati proprio la sera di domenica a causa delle alte temperature registrate nelle cucine dei ristoranti. Spaccio, rifiuti e insicurezza. Bari Vecchia è ancora nel degrado. I residenti dicono che rassicurazioni su controlli e interventi restano lettera morta. Ancora nel Borgo Antico sequestrati 8 kg di droga. Si torna a discutere della tassa di soggiorno. Oggi in Consiglio ci sarà un dibattito, mentre Forza Italia si dice contraria motivando appunto la sua posizione dicendo penalizza il turismo. Andiamo nella BAT adesso ancora con la gazzetta del mezzogiorno. Vediamo l'appello di Vito Giordano, segretario provinciale del sindacato autonomo di polizia, organici e spazi. Cosa serve alle forze di polizia nella BAT? La situazione va affrontata con urgenza, dice Giordano. Rientrerà domani a casa la famiglia di Trani, scusate bloccata a rodi dal vasto incendio che sta colpendo l'isola in queste ore. L'incubo è finalmente finito, grazie a quanti ci hanno sostenuto, hanno detto, mentre stanno rientrando in Italia. La provincia di Foggia adesso ancora con la gazzetta del mezzogiorno. Ecco qui, ampio spazio all'operazione antimafia nella città di Foggia. Scacco matto alla società. Traffico di droga, 82 arresti tra boss e affiliati ai clan. Colpite tutte le batterie che avevano siglato un patto per dividersi gli incassi di tutto lo spaccio della cocaina. E poi un editoriale a firma di Filippo Santigliano che fa da spalla appunto alla notizia d'apertura dal Game Over. Game Over è appunto proprio il nome dell'operazione di ieri al Game Open. Adesso però tocca alla politica. In Salento adesso le province di Lecce e Brindisi sulla prima pagina di Gazzetta. A Brindisi la movida stoppata fa correre subito ai ripari. E a Gallipoli tornano le notti brave con alcol, fumo e scazzottate. Si torna a parlare di emergenza caldo. Il 118 in affanno e pazienti in coda per l'ambulanza. A Lecce centinaia anche gli accessi al pronto soccorso. La provincia di Taranto adesso con la Gazzetta. Ceneri funerari e sparse in spiaggia. Nei guai un 56enne. La procura ha chiuso le indagini. I finanzieri durante un controllo nella zona portuale si sono accorti della presenza del carro funebre sulla spiaggia. E così hanno sorpreso l'uomo. Bilancio manovra da 14 milioni. Scusate. Siamo a Taranto. Lunedì torna a riunirsi il Consiglio Comunale. Con all'ordine del giorno la proposta di delibera sul riequilibrio. Ora andiamo in Basilicata. Lo facciamo ancora con la Gazzetta del Mezzogiorno. Le province di Matera e Potenza. A secco il welfare dei comuni. Bambini e anziani rischiano. I sindaci alla regione. 9 milioni non bastano per l'assistenza. Ce ne vogliono 21. Si torna a parlare di Stellantis. A Roma era di accordo ma Melfi si teme. Palombella dice le trasferte non danno risultati. Torniamo in Puglia. Adesso con la Gazzetta del Mezzogiorno. Si parla del bonus di fine mandato. Congelato. Protesta della CGL contro l'assegno di liquidazione ai consiglieri. Il governo svolge tutte le parti della commedia. Mentre il presidente di regione Michele Emiliano dice giusto avere il TFM però va spiegato mentre il voto in regione slitta a dopo l'estate. Andiamo nelle pagine interne del Corriere del Mezzogiorno. Ecco la cronaca. L'inchiesta della DDA. Oltre 80 gli arresti smantellata a Foggia la società della droga. Cosche unite al fine di controllare le piazze di spaccio della città per l'operazione Game Over usati Trojan e i pentiti di mafia. E poi ecco vedete. Trattamento di fine mandato ai consiglieri. Rinvio in autunno. Emiliano giusto averlo ma va spiegato. La pressione dei partiti attacco a vendola. Vediamo dei virgolettati. Gigiabucci, CGL Puglia. Siamo dinanzi a un atto che minaccia la tenuta democratica di questo territorio. E ancora la forgia dalla giusta causa. Vengono erogate indennità regolari tra 11 e i 12 mila euro al mese. La Repubblica di Bari adesso dunque ancora le notizie pugliesi. Andiamo subito nelle pagine interne del quotidiano. Si parla di infrastrutture. Statale 16, la beffa dei lavori. Ora ci sono cantieri mobili. E poi ecco ancora si parla dello scontro sul TFM. CGL contro Emiliano a segno di fine mandato non è come il TFR. La maggioranza ha scelto di rinviare la decisione mentre il governatore ha scritto un appello ma soltanto dopo. Il sindacato invece è in rivolta per il paragone con i normali lavoratori. Chiudiamo la rassegna stampa con il sole 24 ore. Crisi bancarie. L'Unione Europea apre ai salvataggi preventivi con i fondi di garanzia. Infine si parla di trasporti e turismo. Le ferrovie dello Stato scommettono sul business dei treni storici. E con queste notizie di economia si conclude qui la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito e a voi tutti un buon proseguimento di giornata.